Bene, buonasera a tutti quanti voi, un saluto a coloro che ci seguono per la diretta da casa, che seguono il nostro cammino per i borghi. Oggi siamo qui a Dupino, certamente non siete solo di Dupino ma un po' di tutti il vicinato, stiamo qui in questo posto privilegiato che è il posto in cui vi trovate con le altre persone. Certamente tutti quanti dite l'amministrazione uscente ha abbandonato i borghi, ha abbandonato le frazioni. Ovunque manca la manutenzione ordinaria, questo è un problema che esiste e non esiste solo qui a Dupino che è una piccola frazione, un piccolo borgo, ma esiste un po' ovunque, anche nel centro storico, anche nelle nostre ville. Purtroppo manca il senso del bello, del gusto, del profumo, dei colori, non ci sono più fiori nella nostra città, non ci sono più i manti di erba verde, manca proprio la bellezza che di per sé deve essere la caratteristica della piccola Svizzera. Io sono innamorato della natura, piante, fiori, io mi sono sempre distinto perché avevo un salotto in ogni luogo dove sono stato, anche nel locale dove vivo, dove lavoro, c'è proprio questa realtà, pianti e fiori ovunque. Questo perché? Prima di tutto per tenere bella la città, ma soprattutto perché si respira qualche cosa di bello, di straordinario. Possiamo parlare di grandi progetti. Alcuni di voi mi hanno fatto notare questi giorni prima di venire qua. Qui a Dupino abbiamo un problema, è il tuo problema, il problema che ha assillato la tua vita, la tua storia, la chiesa. Guardate quanto vedo una chiesa chiusa e una lancia nel mio costato perché so che significa avere una chiesa adotta. Io l'avevo proprio distrutta. A voi certamente ha bisogno di una ristrutturazione generale. Certamente non posso dire vado al comune per fare la vostra chiesa. Non lo posso dire perché io non vi prendo in giro. Io dico la verità. Però tra le tante cose se possiamo spendere e spezzare una lancia per la chiesa di Dupino la facciamo. Una chiesa a me anche molto cara. Sono venuto qui da ragazza a giocare con Don Emilio Papa. Quando fu fatto il primo presepe, venne qui con Pasquale Milite, con il maestro Alberto Bucciarella a realizzare il primo presepe, il presepe mobile che fu fatto qui. Quando Don Emilio fece arrivare la prima natività mobile, non l'aveva nessuno in zona. Perché non ricordare queste cose belle? Il campetto, quando ci accoglieva tutti nella sala per lì, nell'oratorio. Sono bei ricordi. Questi ricordi li aveviamo insieme questa sera. E quando sono arrivato qui, veramente, c'era un po' di nostalgia. E dinanzialmente scorrevano le figure di tante persone che ora certamente non ci sono più. Oggi siamo qui. Siamo qui per una svolta, ma soprattutto per un cambiamento. Solo in questo momento passa il treno. Dobbiamo unire tutte le forze. Non abbiate paura. Ormai il passato lo conoscete. Sapete il passato di chi ci ha amministrato. Ma sapete anche il mio passato, che è stato un passato glorioso. Io ne ho passate di tutti i colori. Ma abbiamo fatto insieme una pagina di storia. Non mi sono mai approfittato di nessuno o di quello che mi avete dato. Né certamente mi voglio approfittare adesso o arricchire al comune di quello che devo prendere. No. Il mio desiderio è ritornare tra la mia gente. Quella gente che ho lasciato tre anni fa. Quella gente che per me non è venuta mai meno. Che mi avete sempre amato e che io ho sempre ricordato. Vi posso fare tante promesse. una cosa è certo. Non avrò tant'isfratta pagnotta al mio fianco. Avrò persone che vogliono lavorare e che vogliono rimboccarsi le mani. Parlavamo oggi con i tecnici che stiamo lavorando per la progettazione. Abbiamo previsto per pregiato. Non c'è nel programma. Ma l'ho ritenuto necessario di fare la piazza dinanzi alla chiesa. Di fare il parcheggio sotterraneo. Di caso mai è sotto o al distante la chiesa. Con questo ascensore che ci porta sopra nella piazza dinanzi alla chiesa. Quindi delle cose che vogliamo creare con la nuova amministrazione. Oggi ho pensato con loro di creare anche una cooperativa sociale. Tante persone che non lavorano, inserirli in questa cooperativa sociale. Subito. Questa cooperativa sociale deve essere al mio fianco, il mio grande esercito per la manutenzione della città. Certamente anche la Metellia dovrà lavorare. Sarò io per le strade a controllare. Non avrò paura di denunciare coloro che certamente non vogliono lavorare. Siamo chiamati a lavorare. Lavorare insieme e per il bene della nostra città. Voi siete consapevoli che si può fare il cambiamento? Sì o no? Oggi il sindaco di un comune del Fiori Venezia Giulia ci ha mandato un messaggio. Era un ex parete che ha lasciato tutto ed è diventato sindaco del suo paese. E mi ha mandato un messaggio personale che è stato pubblicato oggi su Facebook, sulla nostra pagina della fratellanza. Andatela a vedere. Dove mi ha augurato veramente di fare tanto bene. Anche io mi sono accorto. Posso fare più bene oggi che prima che stavo nella chiesa. Che purtroppo siamo un po' limitati. Oggi sono a largo raggio. Posso lavorare con i ragazzi. Posso lavorare con i giovani che mi vogliono bene e che li amo. Posso lavorare con le persone anziane. Ho pensato a loro per diversi settori. Anche per l'abbego di Londra. Creare dei piccoli mini appartamenti per loro. Persone solo. Con la fisioterapia. Con il portiere di notte. Con un servizio sanitario H24. Quindi abbiamo pensato un po' a tutti. Io continuerò a venire qui. Io non ho famiglia. Ve lo dico e ve lo ripeto e lo dirò a tutti. Sì, la famiglia è la mia città. I miei fratelli sono coloro che stanno con me nella fratellanza. Io continuerò a visitarmi. Nelle vostre famiglie ho mangiato anche qualche volta. Sono stato con voi. Ebbene, dopo le elezioni, dopo la vittoria, speriamo subito, vi invito a preparare anche un momento per stare insieme. Per rivederci ancora. Perché l'amministrazione non è un fatto che riguarda solo il sindaco con i consiglieri e la giunta. Ma è tutta la città. E quando c'è un problema grave, prima con i consiglieri si viene sul borgo, se ne parla insieme e poi si decide al comune. auguriamoci presto di stroncare questo cancro che è presente nella nostra città. E poi faremo questa chemioterapia per sanare i nostri borghi, la nostra città e iniziare a respirare. Datemi e dateci la possibilità di operare. E vedrete che ben presto i cambiamenti arriveranno e la città ritornerà a splendere come tanti e tanti anni fa. Ora abbiamo in mezzo a noi due consiglieri che rappresenteranno questa zona, Loredana e Rosario. Loredana Lambiase e Rosario Prisco. Quindi votate loro insieme alla mia lista. Saranno loro i responsabili di questa zona. A loro dovrete chiamare. Ogni volta vi troverete in difficoltà. E loro saranno il tramite con l'amministrazione e con me. Se non fanno il loro dovere, sarò il primo a cacciarli fuori. Questo è il mio modo di pensare. Ordine, discipline e decoro. Ma soprattutto vivere insieme, operare insieme e crescere insieme. Vi ringrazio di cuore, a voi e alle vostre famiglie e che veramente possiamo vincere al primo turno e festeggiare una volta in persona. Allora, vi dico come si vuole. Subito.